Tre minuti qua a Basaluzzo e sono con il signor sindaco. Buongiorno Gianfranco. Ciao, grazie a te. Voi chi mi hai portato? T'ho portato diverse persone, tra le quali il presidente della bocciofila, che abbiamo un centro sportivo dove comprende tante attività. Perché noi dobbiamo parlare di tradizioni, che è importante, le bocce qua da questi parti sono tradizioni, e no gastronomia. Certo. Allora la bocciofila qua è una bella realtà diventata, 15 anni che siamo in circolo, giochiamo a bocce ma soprattutto ci divertiamo tanto. Abbiamo un posto, come diceva il sindaco, molto bello, perché d'estate abbiamo un boschetto dietro ai campi, e viene questa frescura tardora, si sta da Dio, bellissimo. Giochiamo da maggio a ottobre, i campi sono aperti, quindi purtroppo solo d'estate, giochiamo il lunedì, il mercoledì e venerdì, invitiamo tutti a venire a giocare perché è un gioco piacevolissimo. Si mangia, si beve, si gioca, cosa volete dire? Poi facciamo queste belle cenette, abbiamo delle signore che sono bravi a cucinare, anche io sono appassionata di cucina e di cibo. Quindi di mangiare. Abbiamo anche il tiro a volo, il tiro a piattello. La signora non c'è perché ha ragioni di lavoro, lì abbiamo due pedane, fanno delle gare proprio anche a livello nazionale. Allora, presidente della società Mutuo Soccorso. Noi, essendo della società Mutuo Soccorso, curiamo i bambini e la cultura. Infatti, questo turno abbiamo fatto Halloween e la lanternata dei bambini, curata da un gruppo di mamme. E poi abbiamo fatto la camminata dei babbi Natale. E poi, come cultura, abbiamo fatto due teatri. A gennaio poi abbiamo fatto un incontro sul bullismo delle scuole medie. E poi nel periodo invernale organizziamo un paio di cene, qualche cena, per arrotondare il bilancio. E diamo il salone in affitto, perché è per le spese, ai compleanni dei bambini. Dunque, comune e prologo, sono le due parti importanti del paese. Un gruppo unito, proprio. Avete qualche programma già pronto? Sì, il programma è già pronto. Abbiamo poi la fiera di San Bovo, l'ultimo weekend di maggio, che quest'anno decliniamo in una misura nuova. Rose e rosè, il vino rosè. Quindi è tutto da scoprire. Poi andremo con la festa delle leve e lì ci mettiamo una bella cena di pesce. Andiamo poi a luglio con quella che era la sagra tagliatelle del cinghiale, che quest'anno rivisitiamo con la farina del grano San Pastore. L'idea con l'amministrazione è quella di fare tutte le nostre sagre con questo particolare farina, collegati con la regione Piemonte, con l'assessorato dell'agricoltura, che è un'iniziativa che si chiama Fieramente in Piemonte. Ci vediamo ai prossimi tre minuti. Grazie.